Pensiamo che potremmo trovare nei bambini, nei ragazzi, nei più giovani, dei testimoni. Sono quelli che potrebbero influenzare la generazione dei genitori, sono quelli che i danni li fanno in pratica. Partire dai più piccoli per creare una coscienza civica con la tutela dell'ambiente tra le priorità e il cuore del protocollo d'intesa siglato tra Esercito Italiano e Comune di Giuliano si parte con progetti di formazione che saranno sviluppati dai docenti negli istituti scolastici. Dal controllo del territorio, grazie a un impegno costante dell'esercito, passiamo alla formazione dei docenti e delle nuove generazioni. Questo è il messaggio che parte dal Giuliano, non solo repressione e controllo del territorio capillare, ma soprattutto quella che è la formazione, investire sui nuovi giovani, sulle nuove leve. Le polizie di Stato, i carabinieri, i guardie di finanza hanno lavorato concordemente in maniera molto efficace. Soprattutto hanno lavorato andando sui territori. Questa è la cosa più importante, bisogna abbandonare la logica dei presidi fissi e camminare, girare, muoversi.